Grazie Presidente, ringrazio il Governo italiano per questo invito che ho accettato con grande piacere e saluto tutti coloro che sono collegati con noi. È importante che i governi nazionali in questo momento si concentrino sulle strategie da adottare per rendere concreti gli strumenti che l'Unione ha reso già disponibili o intende sviluppare. In Europa c'è grande fiducia nel Governo italiano, nella Comunità nazionale che ha dato prova in questo tempo difficile di grande coraggio, di disciplina, di solidarietà. A Bruxelles la prima fase della pandemia ci ha spinto a riflettere sulla necessità di un'Europa diversa. Avevamo capito subito che stavamo entrando in una fase nuova e le scelte sono state molto diverse dal passato. I cittadini giorno dopo giorno hanno potuto capire che non eravamo di fronte alla solita Europa vista spesso lontana dalla vita reale. L'Unione ha prodotto in poche settimane un cambiamento di portata storica, come tu Presidente dicevi poco fa, e non coglierlo sarebbe un grave errore politico. È vero, ci sono ancora questioni da chiarire, trattative da completare. Non mancheranno contrasti, anche duri, ma una svolta si è compiuta. Invito tutti a considerare come parte della stessa risposta europea il programma di acquisti della Banca Centrale Europea, la sospensione del patto di stabilità e crescita, la deroga agli aiuti di Stato, la linea di credito del MES senza troiche condizionalità, il raddoppio del bilancio dell'Unione, il suo finanziamento con strumenti comuni, l'introduzione nell'erogazione delle risorse del principio del maggior bisogno, la soppressione, come sapete, del finanziamento statale nei fondi della coesione. Non siamo di fronte soltanto a misure emergenziali. Sono mutate le coordinate, cioè le linee guida delle politiche che hanno governato l'Europa negli ultimi venti anni. I canoni neoliberisti che avevano spinto l'Unione nelle difficoltà e negli squilibri che abbiamo conosciuto sono stati ritenuti non idonei ad affrontare la fase nuova. E questo è il nodo politico che occorre afferrare e da cui dobbiamo ripartire. Ora dobbiamo impegnarci tutti a dare basi solide al nuovo corso e dimostrare che dopo l'austerità che ha generato disuguaglianze può esservi un'Europa più forte, vicina ai cittadini, capace di giocare un ruolo come attore globale. Tutto questo senza l'Italia non sarà possibile. Questo salto di qualità non potrà compiersi. E da questo ne deriva una grande responsabilità e non meno grande delle opportunità che vengono offerte a tutti i nostri Paesi. La lezione del Covid ci dice che non c'è politica, non c'è sovranità, che non c'è neppure identità nazionale senza l'orizzonte europeo. Le difficoltà attuali possono essere affrontate, superate solo con politiche comuni. Che futuro può esservi d'altronde senza una visione europea per i Paesi che stanno affrontando questa crisi? È chiaro a tutti ormai che nessuno può farcela da solo, che il primo e più importante interesse nazionale è quello della coesione europea, della sua unità, della sua solidarietà. Il Parlamento europeo ha subito chiesto all'Unione una risposta ambiziosa e ringrazio la Presidente von der Leyen e il Commissario Gentiloni per aver ascoltato la voce del Parlamento. È utile ascoltare il Parlamento perché i Parlamenti rappresentano i cittadini e in questi mesi difficili il Parlamento europeo ha continuato ad esercitare la sua funzione con una modalità diversa nell'interesse delle nostre opinioni pubbliche. Siamo colegislatori, autorità di bilancio, organo di indirizzo politico e non vogliamo certo rinunciare alle nostre prerogative. Anche in questa fase, come sapete, una fase difficile di negoziati, non faremo sconti. Per noi la proposta della Commissione è la base minima di compromesso e non accetteremo nessun passo indietro. E su questo sappiamo di poter contare sull'impegno del Governo italiano. La proposta del Recovery Fund modifica radicalmente le dinamiche fra governi nazionali e Bruxelles. Se prima era la Commissione a indicare ai governi come utilizzare i fondi, oggi i termini del meccanismo si sono invertiti. Saranno i governi ad indicare le riforme che intendono promuovere. Si tratta di un cambiamento profondo che dimostra come l'Unione abbia saputo trarre lezioni dagli errori del passato. Ora i governi sono chiamati ad una maggiore responsabilità e a dare prova della loro capacità di programmazione e di spesa. Per molti Paesi questo significa avviare riforme per utilizzare le risorse e non rimandarle indietro, come spesso è accaduto a molti Paesi in passato. Serve per questo un cambio di marcia nel rapporto fra regioni e Governo centrale. In Italia, ad esempio, c'è bisogno di infrastrutture. Una strada o una ferrovia in meno nel mezzogiorno è di certo un danno per i cittadini di quelle regioni, ma è anche un danno per tutti i cittadini e le imprese europee. Ecco perché si impone a tutti uno sguardo nuovo. Ricordo che i fondi che arriveranno nelle casse nazionali saranno pubblici e non sarà ammissibile la perdita o lo spreco di questo denaro. La capacità di spesa dovrà aumentare considerevolmente e i Paesi che hanno difficoltà nella progettazione ordinaria dovranno rapidamente modificare molte loro procedure. Sarà fondamentale comunque l'indirizzo pubblico delle risorse sulla base delle priorità europee, come ha indicato la stessa Commissione europea e ha ribadito anche il Parlamento, perché il pubblico dovrà essere l'attore protagonista della ricostruzione. Questo è il momento giusto anche per riaffermare un rinnovato ruolo pubblico nella politica economica e industriale. Non si tratta di recuperare modelli del passato, certo, ma di affermare una funzione di difesa dei più deboli, delle nostre aree più deboli e di allineamento dei programmi nazionali agli obiettivi europei. Per questo serve coerenza, trasparenza, pragmatismo. Spetta naturalmente al Governo italiano, insieme agli attori economici, sociali, istituzionali, queste giornate sono molto importanti, decidere quale strada intraprendere e quali riforme insistere. Da parte mia solo alcuni spunti di riflessione. La prima sfida, come ricordavi, caro Presidente, è quella dell'adeguatezza, di una riflessione sull'adeguatezza dei nostri sistemi sanitari. Non smetteremo mai di ricordare e di ringraziare il personale sanitario per lo straordinario contributo che ha fornito. In questa emergenza, però, abbiamo capito l'importanza di preservare e rafforzare il nostro modello sociale europeo, che assicura a tutti anche l'accesso ai servizi sanitari. Oggi si discute in Europa sulla necessità di un migliore coordinamento nella gestione delle emergenze sanitarie, una maggiore autosufficienza anche nel campo delle attrezzature mediche e della ricerca. Molte produzioni devono tornare da noi. E dopo la mucca pazza si è sviluppata una politica europea integrata della sanità animale. Sarebbe assurdo se dopo il Covid non fossimo capaci di avere standard comuni di gestione e intervento sulla salute umana. Credo che anche a livello nazionale si debba avviare un piano di riforma del sistema sanitario, in modo da renderlo più robusto, efficiente, omogeneo, accessibile nei diversi territori. Ci occorre su questo riflettere su una migliore cooperazione fra Stato e regione. Ricordo che molte disfunzioni e polemiche non ci sono state solo in Italia, ma si sono verificate anche in altri paesi. L'Unione europea per questo ha messo a disposizione una linea di finanziamento del MES destinata alla copertura delle spese sanitarie dirette o indirette. Io non voglio entrare nel dibattito relativo alle scelte che farà il Governo, anche perché la mia opinione è nota, indipendentemente dallo strumento che si vorrà utilizzare, quello della sanità è un bene pubblico che merita investimenti e che incide considerevolmente non solo sul PIL dei nostri paesi, ma anche sul benessere delle nostre società. Il piano di ripresa è stato giustamente denominato Next Generation EU. Si chiama così perché servirà ad investire sulle prossime generazioni. Noi indebiteremo le generazioni future e dobbiamo sentire la responsabilità di ripagarle in prosperità, crescita, sviluppo. Occorrerà quindi concentrarsi molto sui giovani. Servirà ad esempio un piano di investimenti sui beni comuni, educazione, formazione. Dobbiamo riuscire a dare a tutti le stesse opportunità. Ecco perché basta scuole di serie A e di serie B in Europa. Perché abbiamo capito che le difficoltà di numerosi studenti europei di accedere ad esempio all'insegnamento a distanza per mancanza di strumenti tecnologici è la cartina di tornasole di pesanti arretratezze. Accedere alla tecnologia deve essere considerato un diritto, sì, un nuovo diritto umano e sociale, perché nessuno resti indietro o venga discriminato. Giovani, ma anche le donne, molto colpite da questa crisi, i dati ci dicono che potremo tornare indietro. Questo non dobbiamo permetterlo. È a loro che dobbiamo guardare quando parliamo di piani di rilancio dell'economia, nella consapevolezza che la disoccupazione femminile non è solo causa di disuguaglianza sociale, ma anche un clamoroso sperpero di potenzialità, di risorse, di arricchimento per le nostre società. Ma quale dovrà essere la nostra visione del futuro? La scelta dell'Unione è un modello di sviluppo nuovo, basato sulla green economy, la sostenibilità e la transizione digitale. Vogliamo diventare leader nella lotta al cambiamento climatico. È quindi assolutamente necessario che i piani di rilancio nazionali siano ben allineati a questo traguardo. Questi obiettivi non li raggiungerà Bruxelles senza gli stati membri, senza l'impegno dei governi nazionali e dei parlamenti nazionali. Sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale corrono di pari passo. In Europa, anche in questo periodo, abbiamo toccato con mano quanto le pratiche fiscali aggressive di alcuni Paesi sottraggano risorse ad altri Paesi. Ed è giusto porvi il rimedio. Ne ha parlato di recente anche la cancelliera Merkel e io ho espresso il sostegno del Parlamento europeo per riuscire a individuare e a delineare degli standard fiscali comuni. Per pretendere comportamenti diversi dagli altri però bisogna dimostrare anche di avere le carte in regola. l'Italia deve riflettere un po' di più su una strategia di lotta all'evasione che ogni anno sottrae i cittadini, secondo l'Istat, circa 100 miliardi di euro. Credo che sia arrivato il momento perché in questo periodo la stragrande maggioranza dei cittadini che fanno il proprio dovere si sono resi conto dell'importanza dei servizi pubblici, dei servizi essenziali che sono messi a disposizione anche di coloro che non contribuiscono. Si tratta di un fenomeno antisociale, sì, ma anche di un ostacolo alla credibilità internazionale dei nostri Paesi. La crisi ha dimostrato inoltre che l'apertura dei nostri Paesi alle altre economie è un fenomeno indispensabile. Questo, come sapete, comporta anche dei rischi in termini di autonomia strategica, di integrità del mercato interno. E a livello europeo è in corso una riflessione. L'idea che si fa strada è quella di un bilanciamento tra difesa della concorrenza e possibilità di consentire la formazione di campioni industriali in grado di competere ad armi pari con i loro concorrenti extraeuropei. Abbiamo bisogno di accrescere le capacità di concorrenza dell'Europa a garanzia dei nostri sistemi nazionali. Questa sfida è una grande opportunità anche per l'Italia. Caro Presidente Conte, bisogna naturalmente fare in fretta. Fare in fretta, ma bene. Tutti gli indicatori ci riferiscono che la crisi colpirà duramente. Servono riforme strutturali, interventi di sostegno diretto alle persone. Nei giorni scorsi la Spagna ha annunciato il reddito minimo vitale per sostenere il diritto alla vita dei suoi cittadini più poveri. Semplificare, garantire efficienza nel pubblico e nel privato, agire con tempestività. Naturalmente serve lungimiranza e questo è quello che ci chiedono i cittadini europei. L'Unione sta indicando il porto da raggiungere. I governi europei fissino la rotta e tengano la mano salda sul timone. Dobbiamo costruire insieme una nuova personalità del nostro continente e farlo come invitava Hermanesse, spingendo più in fondo le radici senza scuotere i rami. Io vi ringrazio e naturalmente vi auguro buon lavoro. Grazie.